Buongiorno a tutti, bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sono le 12.30 in questo istante, oggi è mercoledì 28 marzo 2018, benvenuti a tutti, grazie di essere qui con noi anche per quest'oggi, buona mattinata, spero sia andato tutto bene, pomeriggio sarà sicuramente dei migliori, oggi parliamo di un tema davvero interessante, importante, abbiamo già parlato qualche volta ma è sempre uno di quei temi che ci interessa toccare perché parliamo di Milano, parliamo di quello che succede in Milano ed è un tema che anche Milano va affrontato, ma diciamo che grazie a questi temi riusciamo anche a uscire un po' dai nostri confini e capire un po' meglio anche tutto quello che ci sta in Oggi parliamo di autismo, di autismi, poi sappiamo che c'è un grande dibattito dietro questo tema e quindi appunto siamo ben contenti di avere sempre qui ospiti nuovi che ci possono aiutare a capire meglio questo fenomeno, questa situazione e a capire come si può fare e che cosa si può fare per aiutare anche chi appunto ha bisogno magari di una nostra mano per divulgare, per sapere meglio come muoversi in questo campo Lo facciamo con due presidenti oggi qui in studio, benvenuta quindi a Cristina Finazzi, presidente di Spazio Blu, buongiorno e benvenuta, e Raffaella Turato, presidente dell'associazione Gaudio, giusto? No, no, basso giusto, ben effetto, benvenuto, grazie mille a entrambi di essere qui con noi, allora io ho questa domanda che faccio sempre proprio perché insomma partiamo bene a capire e se c'è una definizione appunto di autismo, oggi fuori onda parlavamo di spettro giusto autistico, che cosa è e come funziona appunto anche una diagnosi, vi parlavate prima di diagnosi precoce, una cosa importantissima e poi capiamo un po' appunto a che punto siamo arrivati e che cosa ancora c'è da fare. Vai, vado io, bene, buongiorno a tutti, è un'occasione importante questa di trovarci qui a Milano All News perché ci dà anche la possibilità di ricordare che il 2 aprile prossimo sarà la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo e quindi questa possibilità di creare cultura e togliere tutto quello che sono le non conoscenze di questo disturbo. Il disturbo dello spettro autistico si diceva è un disturbo del neurosviluppo, quindi che cosa vuol dire? Che nel percorso di evoluzione di un sistema nervoso a un certo punto qualcosa avviene, questo sistema si interrompe in una naturale corsa verso le sue tappe evolutive e si interrompe come? Creando dei deficit del comportamento, creando dei deficit nella comunicazione, creando dei deficit nelle interazioni sociali e questo compromette di molto la qualità di vita dei nostri figli. Oggi abbiamo la scienza che ci sta dando una mano sempre più facendoci capire che mentre prima siamo passati da una fase in cui di questo disturbo venivano incolpate le madri per la loro impossibilità di essere riusciti a trasmettere questo rapporto effettivo primario al figlio, ora si è capito che il disturbo è di natura biologica e probabilmente si, probabilmente dico perché la causa vera dei vari autismi ancora non c'è se non in una bassissima percentuale, il 15% genetico, si tratterà di ricercarla proprio in questa interazione tra genoma e ambiente. Noi vari autismi, noi stiamo a parlare di un aspetto davvero ampio di problematiche e sintomi, è davvero ampissimo, giusto? Esattamente. Raffaella, se vuoi dire tu, in quante modalità conosciamo il funzionamento dei nostri ragazzi? Sì, in effetti, buongiorno a tutti, in effetti quando si parla di autismo si parla di uno spettro veramente ampio di funzionamenti, quelli che noi definiamo, diciamo, delle persone, ogni persona ha il suo funzionamento ma soprattutto nelle persone che hanno un disturbo allo spettro autistico si notano moltissime differenze che si notano nel comportamento, nella capacità di comunicazione, nella capacità di comprensione dei fenomeni e della realtà e nella capacità anche di acquisire delle capacità, delle abilità di tipo intellettivo o di altro tipo. Quindi ci sono delle persone con autismo ad alto funzionamento che un tempo venivano anche definite con la sindrome di Asperger e tuttora loro amano definirsi così, anche se in base alle classificazioni internazionali ora sarebbero nell'ambito dell'autismo che sono in grado di svolgere delle attività anche complesse che però non possono comunque fare a meno, rinunciare a quello che noi potremmo dire è il loro nucleo autistico quindi la difficoltà nella interazione sociale e persone a più basso funzionamento che hanno anche un grave ritardo mentale. Mi viene da dire appunto così tanti funzionamenti diversi molto probabilmente ci saranno anche molte cause diverse a questo punto molto probabilmente no? E forse questa è la difficoltà anche di riuscire a capire da cosa arriva tutto questo giusto? Ma probabilmente, senza probabilmente sì, il punto è che si dovrebbe veramente riuscire a unire gli sforzi per cercare un disegno anche di ricerca e una complementarietà di queste ricerche che attualmente manca perché si continuano ad indagare alcuni aspetti tralasciandone altri che invece favorirebbero la qualità di vita dei nostri ragazzi. Ci sono tante comorbidità che notiamo essere associate all'autismo ma purtroppo poco indagate, ancora oggi misconosciute. E questo fa un po' strano perché quando, insomma, magari chi non è tanto nell'ambiente così pensa che sia... Ma sì, è poco conosciuta perché insomma è abbastanza giovane come ricerca, è abbastanza giovane come patologia, è abbastanza giovane come disturbo. In realtà mi diceva già negli anni 40 si è cominciato a parlare di questo. Sì, Leo Kanner nel 1943 fu il primo a segnare questo termine autistico facendo questo studio su 11 soggetti a cui appunto diede il nome, che avevano queste caratteristiche, diede appunto il nome di autismo anche se nel contempo c'erano già altri studiosi al di qua dell'oceano come Hans Asperger che aveva evidenziato, lui li chiamava i miei piccoli professori, tutta una serie di comportamenti che avevano scritto la storia appunto dell'autismo, solo che non si capisce perché non si siano mai parlati o forse si sono parlati o meglio qualcuno ha conosciuto gli studi dell'altro senza doverlo dire. Comunque insomma dagli anni 40 ad oggi quello che ci interessa è che tanto si è fatto per l'autismo soprattutto all'estero e abbiamo anche grandi competenze, una quantità immensa di dati che dimostrano che interventi precoci e intensivi, fatti chiaramente su un riconoscimento molto veloce di questo disturbo, possono migliorare di molto la qualità di vita dei nostri ragazzi. Ecco questo è il punto. La diagnosi, la velocità di diagnosi precoce è fondamentale in questo, cioè prima me ne accorgo prima posso dare una buona qualità di vita al mio figlio e a mia figlia. Dicevo appunto tanto è stato fatto, sono avuto all'estero, però in realtà sulla carta mi viene da dire anche in Italia ci si muove, abbiamo una legge regionale che prima la leggevamo fuori onda, mamma mia da fare invidia davvero a qualunque altro stato europeo, altro che la da rimarca come si dice sempre, che si va sempre nei paesi scandinavi, però poi è rimasta lì? Però poi diciamo in Italia accade spesso che si scrivono delle belle leggi e non si attuano. Davvero davvero molto belle effettivamente. Sì, delle belle leggi ma non si attuano. C'è la legge nazionale sull'autismo, ci sono le linee guida che risalgono al 2011 dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute che indicano come si dovrebbe fare la diagnosi, quali dovrebbero essere i trattamenti efficaci per l'autismo sulla base diciamo di una meta-analisi della letteratura scientifica internazionale, quindi è una cosa seria e ci sono delle disposizioni anche in termini di delibere per quanto riguarda la conferenza Stato-Regioni per i servizi per l'autismo, tuttavia nelle varie regioni italiane e in Lombardia pur essendo state scritte delle leggi anche avanzatissime, queste leggi non si attuano. La motivazione per cui non si attuano… Ecco perché poi ovviamente domanda al soggio spontanea come dicevano i miei colleghi solitamente dunque una buona legge per essere definita tale dovrebbe avere un fondo, un finanziamento, dovrebbe avere i fondi per essere attuata e in più deve prevedere un'organizzazione dei servizi adeguata. Queste sono le due principali motivazioni per cui non vengono applicate le leggi. La terza motivazione è la mancanza di sanzioni se la legge non si applica, perché se io in tangenziale vado a 120 all'ora invece che a 90, la multa me la prendo. Qualunque istituzione che non applica una legge non viene sanzionata, a prescindere che sia la regione, la provincia oppure la TS di competenza. Ecco appunto, una legge, una legge applicata però, mi diceva che quando comunque riusciamo magari a fare ad esempio la diagnosi precoce, ci scontriamo con altri grossi problemi che sono ad esempio poi il come fare i percorsi dopo liste d'attesa infinite ad esempio. Qui c'è il problema dell'organizzazione dei servizi, c'è il problema della formazione degli operatori dei servizi. Ecco, per me la dica, ma i servizi, i servizi dell'interno Lombardo, in questo caso noi siamo qua, è pronto a una cosa del genere? Cioè, sanno cosa stanno dando conto, sanno come fare? O sembra che invece non abbiano gli strumenti proprio? Beh, da una parte ci scontriamo, come le dicevo, sotto l'aspetto culturale. Qui manca, visto che per anni siamo stati alla mercè di questa analisi psicoanalitica del problema, quasi che fosse un qualcosa che riguardasse solo la relazione madre-bambino e la formazione anche di questi medici, neuropsichiatri, si è proprio basato su queste conoscenze errate. Il punto è che adesso non ci sono stati nel frattempo aggiornamenti spinte per aggiornarsi e quindi ancora ci sentiamo prescrivere dopo lunghe attese per avere una diagnosi, perché anche questa non è semplice ottenere una diagnosi, sia, ripeto, per questa visione parziale del problema, errata, peraltro non parziale, ma anche per poi una mancanza di organizzazione dei servizi della presa in carico. Gli unici servizi pubblici dopo mesi, forse anche anni di attesa, sono la prescrizione di percorsi di psicomotricità e logopedia, dimostrate che non servire ai soggetti autistici. Quindi, cosa fare? Cosa può fare allora una famiglia lombarda o milanese che appunto, ah magari sento un comportamento un po' a funzionamento diverso, diciamo, dice c'è qualcosa che non va, capisco che c'è qualcosa forse, mi piacerebbe sapere, capire meglio se, come può fare a questo punto? Dunque, noi come associazioni riceviamo tutti i giorni telefonate di genitori, di bambini piccoli che, diciamo, fino ai sei anni che hanno avuto la diagnosi e hanno problemi a trovare dei centri pubblici in cui poter fare dei trattamenti, perfino quelli di cui stava parlando lei, logopedia e psicomotricità, perché ci sono anche in alcune ATS tre anni di attesa per entrare in questo circuito. Quindi, le famiglie in realtà si rivolgono a dei centri privati che hanno la capacità, diciamo, di rispondere a queste esigenze più o meno bene, noi consigliamo solitamente quelli che ci danno la maggiore garanzia di serietà e di buon funzionamento, ecco, diciamo, per parlare in termini autistici, ma, ovviamente, questi trattamenti svolti da centri privati costano e sono costi completamente a carico delle famiglie. Ci sono famiglie che spendono tra i 1000-1500 euro al mese per i trattamenti educativi, comportamentali, di tipo cognitivo comportamentale, educativi per i loro figli. Però mi viene da dire che allora è anche un problema sociale, nel senso che rischio che le fasce più basse mai sapranno neanche di avere questo problema in casa, mi viene da dire, e magari rischiano di mettere in un angolo un bambino che potrebbe invece, magari grazie a degli aiuti, avere una vita di qualità comunque superiore. Questo è quello che purtroppo avviene. Manca, come le dicevo, una rete tra la pediatria e una conoscenza, perché poi i pai di altri sanno fare molto bene il loro lavoro, ma in questo ambito mancano le conoscenze che possa vedere quali sono le prime avvisaglie, i primi sentori, anche in un bilancio di crescita. Esistono un semplice questionario che viene chiamato iMchat, che abbiamo anche sui nostri siti. Sono semplici domande da rivolgere al genitore attraverso cui si può immediatamente vedere se sono presenti i segni di questo possibile disturbo. A questo punto il pediatra invia al neuropsichiatra dell'unità di riferimento locale il bambino per essere valutato per una diagnosi. Ecco, qui si apre il primo grosso problema. Mesi e mesi di attesa per avere anche solo la visita prima, poi seguono i test, poi dopo i test si arriva alla diagnosi e intanto magari è passato un anno e mezzo, due, dal bambino di 15-20 mesi, arriviamo sui tre anni e mezzo, quando le linee guida raccomandano l'ho presa in carico del bambino a 24 mesi. E quindi che cosa succede? Ulteriore tsunami perché non sai a chi rivolgerti, che cosa fare. Oddio, dobbiamo anche dire che ci sono realtà locali che funzionano anche, dove ci sono strutture private che nel corso degli anni hanno saputo mettere a frutto quelle misure che Regione Lombardia ha messe in campo per l'autismo. La legge 392, piuttosto che il case management, ci sono realtà che anche forniscono piccoli squarci di possibilità. Ma questi non bastano. Essendo l'autismo un problema complesso deve riguardare tutta l'esistenza di questo soggetto e quindi non bastano queste cose a spot. Bisogna veramente pensare a una riorganizzazione generale del sistema dei servizi che possa dare risposte. Perché poi la grossa spada di Damocle che abbiamo anche sulla testa è quando questi soggetti arrivano a 18 anni e all'improvviso spariscono dalle traiettorie del sistema sanitario. Sì, perché anche io ho un figlio grande e a quei tempi si parlava di autismo infantile. Poi la definizione è stata più volte corretta, ovviamente. Il problema è che la neuropsichiatria esiste fino ai 18 anni. Quindi diciamo con tutte le conseguenze che ha questa limitazione nel tempo. Perché ci sono comunque dei bambini, degli adolescenti e dei giovani adulti che prendono farmaci e hanno bisogno di essere seguiti da uno specialista che sappia gestire i farmaci. Il problema è che dopo 18 anni finisce l'era della neuropsichiatria e si entra in quella della psichiatria che invece si occupa dei problemi psichiatrici in senso stretto. Che è tutt'altro appunto. Che è tutt'altro. Se c'è un punto saldo abbiamo purato che non è un problema psichiatrico appunto questo. Quindi almeno quello sarebbe facile capire che non bisognerebbe andare a quella parrocchia e invece poi a 18 anni ci si ritrova a dove andare dai psichiatri classici, no? Sono anni e anni che noi dibattiamo questo problema degli adulti e della necessità di avere degli specialisti che seguano gli adulti con autismo. Perché non è che poi l'autismo diventi psicosi, non è che l'autismo diventi schizofrenia. Cioè rimane l'autismo in queste persone che comunque possono poi avere anche altri... Rimane quello il problema fondamentale e quindi probabilmente, non so, se non è lo psichiatra potrebbe essere o un neuropsichiatra che continui a farsi carico del problema anche degli adulti con autismo oppure il neurologo visto che è un disturbo del sistema nervoso. Però attualmente non esistono queste possibilità. Quindi il ragazzo di 18 anni esce dalla sfera della cura di uno specialista della sanità e non ha la possibilità, cioè la famiglia non capisce più a chi deve rivolgersi. Mi viene a dire che questo quadro diventa sempre più importante e fondamentale rivolgersi ad associazioni come la vostra però a questo punto. perché insomma molto probabilmente siete l'unico modo per aiutare queste famiglie che si ritrovano da un giorno con l'altro con questa notizia e a dover capire cosa fare. Il punto è che se ci siamo mossi, cioè se esiste un diritto da parte dei nostri figli esiste un dovere da parte di qualcun altro. Questo dovere ce lo sentiamo e ce lo accogliamo tutti i giorni, riunendoci anche nelle associazioni cercando di trovare quelle che sono le possibili soluzioni, ma sono sempre soluzioni parziali perché sono tutte sulle nostre spalle, in particolar modo sulle spalle delle madri che devono abbandonare l'attività lavorativa, che devono diventare a loro volta case manager per riuscire a gestire in tutte queste situazioni, perché poi non abbiamo toccato un altro punto fondamentale. Perché se è vero che queste terapie, questi percorsi educativi, chiamiamoli così, usciamo dall'ambito della terapia e della cura, sono percorsi educativi che riguardano tutto il contesto e tutte le agenzie educative, quindi l'importanza della scuola, di qualsiasi ordine e grado. Quanto la scuola è impreparata a tutto ciò? Faccio una domanda brutale faccio. Secondo me la scuola... mancano degli strumenti, però abbiamo tantissimi operatori attenti e soprattutto che vogliono riuscire ad avere questi strumenti per svolgere la propria specificità e il proprio lavoro al massimo. Io non ho mai incontrato in questi anni difficili un operatore, un insegnante, un educatore che si tirasse indietro rispetto a questo, anzi chiedeva gli strumenti. Ecco perché serve un coordinamento, servono percorsi educativi coordinati in progetti di vita che siano condivisi innanzitutto con la famiglia che si rimette in moto perché rispetto a un figlio che non risponde, che non fa quello che gli chiedi, che ha questi comportamenti bizzarri, che a volte sfociano in comportamenti problematici. Cioè ha bisogno di essere supportata e ha bisogno di riattivare quelle che sono le sue potenzialità che sono lì sopite. La scuola, i contesti anche aggregativi normali, pensiamo agli oratori, allo sport, al tempo libero. In tutto questo ci deve essere però un pensiero coordinato che conduca, che accompagni questo ragazzo insieme alla sua famiglia, insieme ai fratelli, nella sua vita che se non avrà comunque una traiettoria come quella degli altri sarà comunque degna di essere vissuta. E' questo che noi chiediamo, dignità. Mi viene da dire che è un dovere che diceva ci prendiamo, ce lo prendiamo, non c'è problema, ma che forse questo dovere dovrebbe essere il capo a qualcun altro, dovrebbe da dire. Ma è giusto che chi ha un problema cerchi di organizzarsi per trovare delle soluzioni. E noi diciamo con il Comitato Uniti per l'Autismo abbiamo aggregato 40 associazioni di Lombarde. 40 associazioni di Lombarde riunite in Uniti per l'Autismo, che poi il 2 aprile vi ritroverete, avete una giornata di incontro. Ci sono tante iniziative perché il 2 aprile poi è Pasquetta ed coincide con una festività importante. Però ci sono molte iniziative sia questa settimana che per tutto il mese di aprile a cui noi diamo grande visibilità sulla nostra pagina Facebook e a cui cercheremo di partecipare sempre uniti, sempre insieme per l'Autismo. Ecco diciamo quello che noi vogliamo rappresentare finalmente è anche l'unità delle famiglie, delle migliaia di famiglie coinvolte, l'unità delle 40 associazioni, superando la frammentazione, superando anche la divisione territoriale. Perché è giusto che esista un'associazione per territorio, se vogliamo. Perché esistono problemi territoriali differenti e realtà territoriali che richiedono soluzioni diverse. Però noi, diciamo, nei confronti di regione Lombardia abbiamo deciso di costituire un fronte veramente unito e omogeneo. Quali sono quei miti intorno all'autismo che più vi danno fastidio? Che bisognerebbe smontare, che quando rimangono ancora non si riesce a smontare? Cerchiamo di abbattere qualcuno. Quanto tempo abbiamo? Ma più che parlare di miti e di falsità, noi vorremmo parlare di cose concrete che si possono fare. Innanzitutto la concretezza di dare veramente, finalmente, un percorso certo a questa norma che Regione Lombardia ha da due anni lì nei cassetti. Quindi attendiamo di sapere chi sarà il futuro assessore al welfare e alla sanità di Regione Lombardia. A ora dovresti saperlo. E sperando che, come ci ha poi scritto anche il Presidente Fontana, avrebbe dato seguito a queste nostre richieste, a queste nostre priorità. Quindi noi siamo ben disposti e attendiamo questi colloqui e questi incontri. Dall'altra parte cerchiamo di mettere a fuoco quelli che sono i passaggi cruciali delle nostre problematiche quotidiane. Quindi avere veramente, essere seguiti da personale medico competente che magari si organizzi anche nell'equip multidisciplinare che tanto sono anche sancite sulla quella famosa legge, legge 15 del 2016. Quindi avere, se l'autismo è una problematica complessa, dobbiamo avere una visione multipla di sguardi e quindi ognuno con la propria particolarità. Quindi dal neuropsichiatra, dall'allergologo, dal gastroenterologo, dal neurologo, ma che tutti portino la loro conoscenza sulla salute di questo soggetto. E poi che tutte queste figure si parlino, perché spesso un altro problema dei servizi sono la non comunicazione. E allora la domanda che ci facciamo spesso, ma di chi è l'autismo? E dei nostri figli o dei servizi che non si parlano? Perché anche qui verrebbe un po' il dubbio che sia così una sofferenza generalizzata oggi. Se non altro anche per considerare la prevalenza che è in forte aumento. Se fino a pochi anni fa avevamo un caso su 10.000, un caso su 1.000, oggi siamo arrivati. E' perché prima non si sapeva che c'era questa cosa? Questo dicono, no? No, lo dicevo. Ora siamo arrivati negli Stati Uniti, 1 su 68. Noi calcoliamo in Italia un bambino su 100. Sono tanti. E' vero, siamo diventati più bravi nelle diagnosi, al di là che dobbiamo attendere, ripeto, le calende greche. Forse si può, sì sì. Cosa è l'ucidante, pensarci bene. Siamo stati così bravi a fare le diagnosi che poi non siamo capaci di gestirle. Questa è una cosa l'ucidante. Non è solo questo. Non può avere un aumento così esponenziale e non farci domande altre. Di certo la scienza... Non appunto dico, è strano, no? Quello che mi sconvolge è che appunto la scienza è riuscita comunque ad essere così brava di riconoscere tutti i casi, ma poi non siamo capaci, la nostra sanità, di gestire questa situazione. Cioè quando invece basterebbe appunto sapere i numeri sono lì, è facile e poi basterebbe... Basterebbe sapere i numeri. Ad oggi non lo riconosciamo. Non esiste un dato epidemiologico, nessuno l'ha raccolta. Eppure le famiglie... Ci sono delle stime? Sì, delle stime in altri paesi. C'è uno studio recente che è stato fatto in Inghilterra che non è un paese molto diverso dal nostro. Occhio e croce, anche come popolazione, in cui su una popolazione di oltre 60 milioni, che può essere l'Inghilterra, avevano valutato 700.000 casi di autismo, spettro autistico. Cioè, rispetto all'aumento delle diagnosi, sì, siamo più attenti probabilmente a dei comportamenti bizzarri, dei comportamenti strani... Comunque aumentano. Comunque aumentano. E una volta, diciamo, c'erano delle diagnosi abbastanza generiche, come ritardo mentale, disturbo dello sviluppo emotivo... Ci sono persone di 48 anni che hanno come diagnosi oligofrenia, che non so neanche cosa significhi, che veniva data 40 anni fa... E che chiaramente sono autistici adulti. E se andassimo, probabilmente, dei centri per la salute mentale a vedere, rivaluteremmo come autistici molti dei casi che oggi hanno 60 anni. Anche dei miei compagni di scuola. E non posso immaginare che tipo di vita vi abbiano fatto fare tra parentesi. Eh sì, in effetti quello che noi speriamo e che vogliamo ottenere anche, è che quando si parla genericamente del dopo di noi per la disabilità grave, è che il dopo di noi per i nostri figli richiede un po' più di attenzione. Comunque volevo dire che una disabilità complessa e una problematica complessa si può affrontare. Non è impossibile affrontarla. Certo, non ha soluzioni semplici. Questo è certo, non ha soluzioni semplici. Perciò bisogna articolarle queste soluzioni, ma non è detto che siano necessariamente costose. Basta che siano realizzate in modo intelligente. Io non conosco il Presidente Fontana, non so se avrò la fortuna di conoscerlo prima o poi, mi viene a dire semplicemente le ascolti. Mi sembrano gente che ne sa, è un bel po' che ci sta dietro, che studia il caso. Insomma, forse anche fidarsi ogni tanto di chi su questo tema ci ha perso notti e notti di sonno, forse avrebbe senso invece di arroccarsi sempre nei vari palazzi. Ma soprattutto fidatevi di chi finora vi ha sempre gestito il problema, perché io personalmente... Sì, non ho gestito solo il problema di mio figlio pagando sempre tutte le fatture privatamente, perché non ho mai avuto... Mio figlio non ha mai avuto il bene di avere un trattamento nella sanità pubblica, però... Ma per esempio non potete chiedere un accompagnamento, quelle cose lì non sono... No, diciamo, hanno certamente il riconoscimento dell'invalidità e dell'indenità di accompagnamento. Sì, perfetto. Per cui, se il bambino è autistico, ha la diagnosi di autismo, consigliamo i genitori, ma sicuramente glielo considereranno anche i loro specialisti, i neuropsichiatri, di fare la visita per l'invalidità all'Inps e avere perlomeno l'indenità di accompagnamento, l'indenità di frequenza che comunque gli aiutano a sostenere i costi. Come dicevano, non è che siamo in vacanza, anzi, sono un piccolo sostegno ai costi enormi che ci sono. Adesso è inferiore ai 500 euro al mese l'indenità di accompagnamento. E diceva che sono costi veramente, veramente alti per le giuste terapie. Ci sono delle misure che però durano illimitatamente nel tempo, per sei mesi sui gravissimi, sono stati dati anche dei finanziamenti con le misure B1 e B2, però il problema è che non sappiamo dove andare a spendere questi soldi, perché se mancano i servizi, anche se tu mi dai un aiuto economico, dove vado a spendere. Secondariamente cosa me ne faccio di intraprendere un percorso per sei mesi, se poi non ho la certezza di poterlo continuare? I nostri figli sono autistici a vita, questo è il punto. Quindi o cominciamo veramente a pensare a una governance di tutte queste misure che vengono a volte buttate a pioggia, a secondo del momento più o meno particolare. La sensibilità di Cereso. Esatto, e poi quindi una razionalizzazione anche di questi investimenti con un progetto preciso. Ci sono delle bellissime sperimentazioni che da dieci anni ricevono ogni anno l'ok per continuare la sperimentazione, ma lei pensi a questi che sono in un percorso che non sanno se poi domani posso continuarlo o no, agli operatori che sono coinvolti, che sono delle persone splendide, che hanno a cuore quanto noi i nostri figli, perché hanno passione del loro lavoro e si vedono ogni volta che ci mettono piede in questi ambulatori, in questi centri con quanta voglia di fare hanno. E noi tutte queste risorse non siamo in grado di valorizzarle, perché chiaramente uno con la spada di Damoc nel non sapere se l'anno prossimo avrà ancora questo lavoro o no, cerca probabilmente un'altra professione. I progetti con le scuole, un anno lo facciamo, l'anno dopo mancano i fondi e non si fa più i progetti. Si, non si può andare avanti per progetti su una disabilità, Un po' di sperimentazione in dieci anni, chiamiamo una sperimentazione. E con dati eccellenti portati lì, che quindi voglio dire dovrebbero essere messi a regime, eppure siamo sempre in attesa. Manca questa visione o questa volontà direi di mettere al sistema alcune questioni e tra cui però appunto con il comitato chiediamo con una voce sola proprio la realizzazione di questo. Peraltro abbiamo anche lanciato una petizione su change.org che sta avendo un buon successo, siamo a 13.700 firme. Uniti per l'autismo change.org trovate questa petizione per chiedere l'attuazione in un percorso certo di questa legge. Tutti i link li trovate nei commenti a questa diretta, quindi vedete sotto i link delle associazioni, metteremo anche il link alla petizione perché è davvero un modo da poter dare il supporto massimo che possiamo a Uniti per l'autismo e a tutte le varie associazioni. Quante associazioni in totale sono? 40. 40 associazioni che si sono uniti e insieme hanno deciso appunto di andare a bussare da tutti i territori lombardi. Tra l'altro abbiamo avuto anche degli ottimi sostenitori dal mondo dello spettacolo come Elio che... Ci ha fatto un grande regalo, un video bellissimo. Con la sua sensibilità di papà ci ha regalato un video che sostiene la nostra causa e la nostra petizione su change.org. Allora, date vedere la petizione, date vedere il video. Siamo in chiusura, siamo arrivati alla fine della nostra mezz'ora, è stata davvero una mezz'ora interessante, vi ringrazio anzi per essere venute a farci conoscere, a insegnarci qualcosa perché insomma c'è sempre un momento per noi di imparare, è sempre importante e conoscere questo tipo di situazioni per noi è fondamentale davvero, vi ringrazio tantissimo. Complimenti per il lavoro che state facendo. Ricordiamo il 2 aprile cosa... Una settimana in realtà vi dicevo anche di più, per tutto aprile ci saranno avvenimenti ed eventi, giusti? Sì, ci sono vari avvenimenti promossi dalle varie associazioni nei vari territori, per cui diciamo già domani c'è l'inaugurazione della mostra L'arte risveglia l'anima che è una mostra artistica dedicata alle persone con autismo. Dove? Sì, si possono... Alla Galleria d'Italia, in Piazza della Scala, alle ore 11 ci sarà l'inaugurazione di una mostra che prosegue per qualche mese e così ci saranno diversi avvenimenti ed eventi nel periodo. Poi, noi avremo un'eccezionale esperienza come al solito tutti gli anni, diciamo in occasione del 2 aprile, i nostri ragazzi fanno dimostrazione delle loro capacità nel basket, al forum di Assago, nel prepartita, e quindi vedremo sabato le loro abilità che saranno messe in mostra. E questo in vari campi, anche Lombardi, dove c'è una squadra di Serie A del basket, la Lega Basket, si schierà insieme a noi per la sensibilizzazione dell'autismo, quindi nei vari campi. Sì, anche in giro per l'Italia. Per l'Italia. I vari campi Serie A del basket di questo weekend troveremo i vostri ragazzi. Perfetto, io vi ringrazio tantissimo. Qualcosa, Cristina, in chiusura volevi aggiungere? No, dobbiamo ringraziare anche J-Ax che cortesemente ha ritwittato il video sulla sua pagina Twitter di Elio e quindi noi accogliamo tutti, anzi, chi volesse sostenerci è ben gradito e vi invitiamo soprattutto a livello personale a sostenerci tramite la firma di questa petizione. E guardate la nostra pagina Facebook dove ci sono tutti gli eventi per l'autismo del mese di aprile. Perfetto, allora, vi hanno spiegato tutto, vi dicono anche che andate a firmare la petizione, trovate il link qui sotto nella diretta. Grazie mille davvero di essere qui. Grazie a voi. Grazie a voi. Buona giornata. E poi di rivedersi presto, comunque con tante notizie, con magari sapere che, insomma, la regione. Vi aggiorneremo, vi terremo aggiornate. Questa legge che mi ha letto prima ovviamente mi ha stupito, ero fiero di essere lombardo, come dice ma rimane solo lì. Rimane sulla carta. E no, allora dobbiamo fare qualcosa appunto. Seguiteci, seguiteci. Va benissimo. Grazie mille davvero. Grazie a voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Vi ricordo appunto nei commenti della diretta tutti i vari link alle realtà di cui abbiamo parlato oggi. Noi ci vediamo questa sera alle ore 18 con informazioni di Milano All News e domani sempre qua alle 12.30 con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille. Arrivederci. A presto. Grazie mille. Grazie mille.